Nicola Gianfagna, sarai il vice allenatore di Mr. Pietrunti allo Sporting Campobasso dopo l'esperienza al Monacilioni. Allora, quali le sensazioni dopo questo passaggio? Grande emozione perché per la prima volta andrò ad affrontare un campionato di Serie B con gente in squadra che ha affrontato almeno una volta questo tipo di campionato. Gente che conosco anche perché ho condiviso lo spogliatore quando giocavo con la Chaminade e altri invece li conosco perché li ho affrontati sul campo diverse volte. Sarà veramente un piacere lavorare con loro perché sono sicuro che grazie alla loro esperienza potrò migliorare ulteriormente il mio bagaglio di allenatore. Con Andrea non ho mai avuto l'occasione di lavorarci insieme però questa sarà una grande opportunità. Che tipo di campionato ti aspetti? Sicuramente avrete fatto il punto della situazione in società. Sarà un campionato molto equilibrato con tanto che ci sarà solamente uno straniero per squadra quindi la maggior parte saranno giocatori italiani quindi ogni partita sarà combattuta, tosta. Noi ripeto abbiamo gente di qualità che ha affrontato questo campionato quindi saremo veramente una grande realtà in questo campionato e ci vogliamo togliere grandi soddisfazioni sperando di raggiungere il prima possibile l'obiettivo di centrare la salvezza per rimanere sempre in Serie B e alzare sempre di più la sticella. Che squadra sta nascendo fra riconferme dalla scorsa stagione e nuovi arrivi? Una grandissima squadra. Non vedo l'ora di iniziare perché c'è gente che magari torna ad affrontare il campionato di calcio a 5 mentre altri invece per la prima volta vengono ad affrontare un campionato di calcio a 5 quindi sarà bellissimo lavorare con loro. Possiamo citare qualche nuovo innesto. Fabrizio Polzella che viene dal calcio a 11 e ritorna al calcio a 5 poi Luca Silvaroli che ho avuto a Monaciglioni in questi due anni quindi sarà bello lavorare ancora con lui c'è anche Francisco, un giocatore che viene dal calcio a 11 e lui per la prima volta affrontare il campionato di calcio a 5 quindi lavorare con lui, spiegargli le varie fasi del calcio a 5 sarà veramente bellissimo. Un'ultima cosa, che esperienza è stata in breve a Monaciglioni lo scorso anno, un piccolo paese che è stato stretto intorno alla squadra di Fuzza. È una bellissima esperienza perché sono cresciuto veramente tanto ho potuto mettere in pratica tutto quello che ho accumulato nei vari anni alla Chaminade quando venivo allenato da Polo Pizzuto, da Fernando Santella e quindi sono veramente felice di aver lavorato lì perché è gente che dava veramente tutto per il bene della squadra e della società.